Beh è andata molto bene perché è la prima volta che passiamo un turno ai campionati assoluti visto che comunque è soltanto il secondo anno che partecipiamo e speriamo di passare anche il prossimo turno ma è un po' difficile Non pensavo di giocare così bene, di solito non è... Sì è stato un po' imbarazzante perché c'è tantissima gente e quindi... Essendo la più piccola la meno brava, sono un po' timida, cioè mi vergogno un po' Però sono contenta perché sono felice di essere la più piccola perché non capita molto Perderemo il prossimo turno probabilmente Quanto sicuro Cioè però è una bella esperienza